Un CD dietro cui si scela un mondo, quell'universo sempre più variegato e qualificato della nuova scena musicale toscana. E' questo il ritratto che esce dal progetto T-Rumors, promosso dalla Regione Toscana e dall'Associazione Toscana Musiche, nell'ambito delle iniziative Giovani Sì, con la collaborazione di Intoscana.it. E' il risultato di un percorso fortemente voluto dalla Regione Toscana che mira a incentivare i giovani in un campo, che è quello della musica. Per T-Rumors noi abbiamo investito tanto anche all'interno del progetto Giovani Sì per fare in modo che i giovani residenti in Toscana senza contratto di produzione potessero essere tutorati, seguiti e poi alla fine anche avere un CD nel quale è possibile ascoltare quello che hanno fatto il loro lavoro. E' un'ulteriore iniziativa che noi mettiamo in campo nell'ambito della cultura e in particolare di quella cultura che è rivolta direttamente ai giovani e che è fatta direttamente dai giovani. Non solo cantine e feste di piazza come una volta, i tempi cambiano, il livello si alza, gli artisti emergenti producono, suonano, si impongono sui nuovi media. Tutto questo e molto di più c'è alla base della nuova uscita del CD compilation T-Rumors, 12 brani in cui ritroviamo i 5 vincitori del concorso T-Rumors che ha visto oltre 100 partecipanti, 30 gruppi in gara, 6 vetrine in tutta la Toscana e due serate finali all'anfiteatro delle Cascine di Firenze. Il percorso è stato molto lungo perché siamo partiti dalla selezione dei musicisti, quasi 80 gruppi, poi una seconda selezione con concerti a Pisa, a Firenze, a Siena, poi infine la finalissima a Firenze e poi ancora il lavoro in studio perché i gruppi che sono stati giudicati vincitori, che sono gruppi un po' di tutti i generi musicali, dal funky al jazz alla musica di ispirazione etnica ai cantautori, si sono confrontati con personaggi del mondo dello spettacolo toscano della musica per lavorare a stretto contatto di gomito, incidere insieme i due brani che poi hanno formato questo CD che presentiamo questa mattina, che è il secondo perché Rumors è arrivato ormai al quarto anno di età con un percorso sempre più lungo e approfondito. Quest'anno siamo riusciti addirittura, prima dell'uscita di questo CD e proprio in questi giorni, a lavorare insieme ai clubs della Toscana, ben otto città, che hanno ospitato i gruppi finalisti in una serie di quasi 40 concerti. È stata una bella maratona, tutta l'insegna della giovanissima musica. Protagonisti, l'energia black degli aretini e le funk, il rock venato di atmosfere orientali dei fiorentini e iraniani de Allophons, il folk progressive dei pratesi l'apprendista bardo, due raffinate cantautrici, come Giulia Pratelli, da Pisa, Eliana Marino, di origine molisana ma da tempo residente a Firenze, e infine il jazz contaminato dei senesi Gaga Quartet. Durante le registrazioni in studio, i sei gruppi artisti sono stati seguiti da tutor d'eccezione, scelti tra i musicisti Ferruccio Spinetti, Paolo Benvenu, Nico Gori, Antonio Aiazzi, Stefano Saletti e Dario Cecchini. Un'importante occasione di crescita professionale, che in alcuni casi ha generato vere liaison artistiche, come quella tra Paolo Benvenu e Eliana Marino. L'ex scisma ha partecipato alle registrazioni e ha invitato la Marino ad aprire un suo concerto. Il CD Compilation sarà distribuito dall'etichetta toscana Materiali Sonori Il CD Compilation sarà distribuito dall'etichetta,